23 persone ricoverate in terapia intensiva a Padova, 40 in totale, 338 pazienti seguiti negli ospedali della provincia. Sono dati in netto miglioramento, soprattutto se si guarda ai padovani attualmente positivi, 39.300, ben lontani dagli oltre 50.000 della scorsa settimana. A preoccupare restano i nuovi contagi che si mantengono stabilmente sopra le 3.000 unità anche nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti da Azienda Zero. Nel frattempo l'emergenza è quella delle scuole dove sono 1.250 le classi in quarantena in questo momento.